Quando i pompieri ricevono una chiamata dalla polizia di Melbourne, gli agenti non perdono un minuto ad arrivare sul posto che era stato segnalato. L'obiettivo è entrare in un appartamento in cui presumibilmente si nasconde una ragazza scomparsa da circa una settimana. Un pompiere si arrampica sulla scala e arriva fino alla finestra dell'appartamento in questione, sbircia all'interno, e quello che vede è solo un corpo disteso a terra ai piedi del letto. Ma molto presto scoprirà che niente è come sembra. Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi voglio raccontarvi una vicenda accaduta in Australia che mi ha davvero lasciato perplesso. E sono sicuro che quello che scoprirete durante il video lascerà perplessi anche voi. Prima di cominciare però volevo ricordarvi che su Pampling trovate le magliette che indosso nei video, come questa, libri perché l'omicidio è sbagliato, mi raccomando, leggete piuttosto che uccidere. E cosa che non vi ho mai detto perché mi sono sempre dimenticato, sul sito in realtà ogni settimana c'è una promo diversa, una promozione diversa, quindi a partire da questa settimana io vi lascerò ogni settimana la promozione che c'è in corso, così voi sapete anche insomma quali offerte potete trovare sul sito. E niente, come al solito mettendo il codice Andrew, questa settimana in teoria riceverete delle calze a vostra scelta, totalmente in omaggio. Come vi dicevo oggi ci troviamo in Australia, più di preciso a Melbourne, la seconda città più grande dopo Sydney. Melbourne si trova nel sud-est del continente australiano, ospita più di 5 milioni di persone, che sinceramente non pensavo, ed è molto conosciuta per avere un meteo estremamente variabile. È molto ventuosa per tutto l'anno e in inverno raggiunge temperature molto più fredde rispetto ad altre città australiane. Dalle foto e da ciò che si dice sul web, sembra proprio una città in cui non manca niente, bellissima, attiva, viva. Una città conosciuta per essere la capitale della cultura australiana, ed è proprio lì che vivono i protagonisti della storia di oggi. Una famiglia, composta da 5 membri. E piccola parentesi, mi scuso per la mia voce oggi, sto facendo un po' di fatica perché ho una placca nella tonsilla, quindi mi gratta un po'. Cercherò comunque di fare del mio meglio, scusate. Comunque è il 1998 e Michael ed Elizabeth Barber sono una bellissima coppia, felicemente sposata da ormai 20 anni. Michael lavora come produttore di giocattoli ed è un designer, mentre sua moglie Elizabeth si occupa di una cosa che non ho ben capito, perché tradotto letteralmente sarebbe letteratura per bambini, ma immagino fosse semplicemente insegnante di letteratura alle scuole elementari. Comunque, Michael ed Elizabeth hanno due personalità estremamente creative, e infatti basano il loro rapporto proprio sulla fame di imparare, insegnare, e sono persone in generale sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e unico. Per questo motivo sentono da subito di dover trasmettere il loro amore per la vita e per l'arte alla loro prole. Cinque anni dopo il loro matrimonio, infatti, danno alla luce la loro prima figlia, Rachel Barber. La famiglia in realtà si allargerà molto in fretta perché quattro anni dopo la nascita di Rachel nascerà Ashley Rose, che sarà la figlia di mezzo, e due anni dopo di lei arriverà anche la piccola Heather. Arrivati al 1998, Rachel ha 15 anni, Ashley ne ha 11, e Heather solo 9. Michael ed Elizabeth sono davvero al settimo cielo in quel periodo, amano le loro tre figlie e la famiglia che si sono costruiti, le amano alla follia. Come vi dicevo, il loro sogno più grande era proprio di trasmettere la loro natura creativa e artistica anche ai figli, alle figlie in questo caso, e infatti tutte e tre si riveleranno delle vere e proprie personalità artistiche. La piccola Heather sviluppa fin da piccola una grandissima passione per il canto, e Ashley Rose, la figlia di mezzo, seguirà le stesse orme musicali della sorellina, perché si appassionerà anche lei alla musica e in particolare imparerà a suonare il flauto. La stella della famiglia, però, è proprio Rachel, la figlia più grande, che si innamora della danza fin da bambina. Una passione che la accompagnerà per tutta la sua vita. Rachel è una vera e propria star, è elegante, delicata, e incarna il prototipo di ballerina di danza classica a 360 gradi. Nonostante la famiglia esploda di gioia e di arte, la loro vita non è proprio perfetta, infatti i loro problemi erano per lo più economici ed erano all'ordine del giorno. I barber sono praticamente costretti a vivere di stipendio in stipendio. Michael ed Elizabeth, però, non permettono alle difficoltà economiche di influenzare tanto negativamente la loro vita, e specialmente quella delle loro figlie. I due fanno del loro meglio per dare alle ragazze tutto ciò di cui hanno bisogno, cercando di nascondere le loro difficoltà, insomma, cercando di farle passare, nonostante tutto, una bella infanzia, una bella adolescenza. La vera riccazza di questa famiglia, infatti, stava proprio nel voler trasmettere l'amore per l'arte, per la creatività, e per questo spronano sempre le figlie a coltivare al massimo le loro passioni. Proprio per questo motivo, nel settembre del 1998, Michael ed Elizabeth decidono di iscrivere la figlia maggiore, Rachel, in una scuola di danza a Richmond, più precisamente una scuola chiamata Dance Factory. Richmond è una piccola cittadina situata nella parte occidentale del Queensland, e dista circa 20 minuti dalla casa dei barber. Le motivazioni che spingono i genitori a iscrivere Rachel a una vera e propria scuola di danza in realtà sono molteplici. In primo luogo, Rachel, dovete sapere, soffre d'ansia, ha paura a prendere i mezzi pubblici da sola, la scuola non prende buonissimi voti, e ha il terrore di parlare davanti alle persone. Tutte queste cose messe insieme creano nella ragazza quella che, negli articoli online, viene descritta come una piccola depressione. I genitori ovviamente se ne accorgono subito e volendo il meglio per lei, pensano che il modo migliore per spronarla e rimetterla in carreggiata fosse proprio iscriverla ad una vera e propria scuola di danza, in cui oltre a frequentare le normali lezioni, conoscere gente nuova, vedere una nuova realtà, avrebbe avuto anche la possibilità di fare la cosa che più le piaceva al mondo, ovvero ballare. Quindi, a settembre Rachel inizia a frequentare questa scuola, e finalmente riesce a sbocciare. Si fa un sacco di nuovi amici, la sua ansia diminuisce, riesce a conciliare lo studio con la danza, e trova anche un fidanzato di nome Manny. In quel periodo inizia anche a fare la modella, e questo rappresenta in realtà una vittoria molto importante per lei, perché sente finalmente di poter esprimere se stessa senza temere il giudizio altrui, cosa che prima la spaventava tantissimo. La ragazza sembra finalmente aver trovato la sua strada, e ora il suo unico obiettivo è diventare una ballerina professionista, per coronare il suo sogno. I mesi passano, e si arriva al primo marzo del 1999. È mattina, e Michael esce di casa insieme a sua figlia Rachel, per accompagnarla a Waddle Park, la stazione ferroviaria più vicina a casa loro. Da lì, Rachel, come ogni giorno, prende il treno, o il tram, non so quale dei due, perché in alcune fonti c'è scritto treno, in altre tram, comunque, penso sia il treno, diretto a Richmond. Michael dice a Rachel che sarebbe andato a riprenderla alle 18.15, così la ragazza annuisce felice, lo saluta, e si allontana. Michael la segue con lo sguardo, e non appena la vede salire sul mezzo, rimette in moto, e se ne va. Come promesso, il padre di famiglia, Michael Barber, si fa trovare alla stazione ferroviaria alle 18.15. È nella sua auto, nel parcheggio fuori dalla stazione, quando sente il treno arrivare, fermarsi, e poi ripartire. Osserva la folla uscire dalla stazione, e riversarsi nel parcheggio, quindi comincia a cercare con lo sguardo sua figlia Rachel, ma sembra non riuscire a trovarla. I minuti passano, e quando il parcheggio diventa di nuovo deserto, capisce che di sua figlia non c'era traccia. Tuttavia, Michael non è incline a farsi prendere dal panico, e decide di aspettare il treno successivo, che sarebbe arrivato poco dopo. Purtroppo, però, anche all'arrivo del treno successivo, Rachel non si fa vedere. Così, Michael aspetta ancora, e ancora, ma ad ogni treno che arriva, e ogni volta che non vede sua figlia uscire dalla stazione, la sua ansia cresce sempre di più. Fuori iniziava a diventare buio, e Michael sapeva benissimo quanto Rachel detestasse il buio, e avesse paura di restare da sola alla notte. Pian piano così, inizia ad insinuarsi in lui, il pensiero che doveva essere accaduto qualcosa di strano. Quando ormai è passata quasi un'ora dal suo arrivo al parcheggio, Michael decide che è arrivato il momento di fare qualcosa, quindi rimette in moto, e si dirige a casa dei suoi genitori, che distava a pochi chilometri dalla stazione. Si fionda dentro casa loro, senza dire una parola a nessuno, e prende il telefono fisso per chiamare casa sua. Sua moglie Elizabeth risponde subito la chiamata, e Michael le chiede immediatamente se per caso Rachel fosse già arrivata a casa, magari dopo aver chiesto un passaggio a qualcuno. Ma l'uomo ha un tuffo al cuore quando Elizabeth gli risponde di no. Gli dice che la loro figlia non era a casa, e che non aveva nessuna sua notizia. Non, da quando era partita quella mattina per andare a lezione insieme a suo padre. È in quel momento che i coniugi capiscono che deve essere successo qualcosa di preoccupante. Non era nella natura di Rachel non avvisare per un eventuale ritardo, o non dare notizie per ore, soprattutto perché ormai era notte, e non era proprio nel suo carattere non dare alcuna spiegazione su dove fosse. Michael quindi esce di casa dei suoi genitori, e guida verso casa sua per raggiungere la moglie. Entrambi molto agitati decidono di contattare Manny, il ragazzo di Rachel, perché sapevano che ogni sera i due adolescenti si telefonavano. I genitori di Rachel in quel momento vogliono sapere dal ragazzo se la loro figlia magari l'avesse contattato per fargli sapere qualcosa. Tuttavia, dopo aver chiamato Manny, lui risponde di non avere sue notizie da parecchie ore, dicendo che l'ultima volta che l'aveva vista era stato quel pomeriggio. I due, a quanto pare, erano andati al centro commerciale dopo le lezioni. In particolare, Rachel aveva portato Manny in un negozio di scarpe, dove si era avvicinata ad un paio di scarpe molto particolari, delle platform altissime di colore blu, che a quanto pare avevano fatto brecciare il suo cuore. La ragazza poi aveva spiegato a Manny quanto desiderasse quelle scarpe e gli ha anche detto che aveva trovato un modo per acquistarle, nonostante costassero più di 100 dollari. Vi dicevo prima che la famiglia viveva in una situazione economica molto precaria e quindi Michael e Elizabeth si straniscono molto quando sentono da Manny quello che gli aveva detto Rachel quel pomeriggio, come avrebbe fatto a procurarsi quei soldi. A Elizabeth poi si accende subito una lampadina dopo che Manny nomina quelle scarpe, perché esattamente il giorno prima lei e Rachel erano andate al negozio di scarpe e la ragazza l'aveva praticamente supplicata di comprarle quel modello specifico. Quando Elizabeth aveva guardato il prezzo, aveva detto a Rachel che purtroppo non se le potevano permettere. Quindi dopo le parole di Manny, i genitori in realtà iniziano a preoccuparsi ancora di più. Si fanno decine e decine di domande, ma soprattutto si chiedono come avrebbe fatto Rachel a permettersi delle scarpe così costose. Elizabeth chiede a Manny se la ragazza gli avesse detto qualcosa riguardo a questo, se gli avesse parlato di qualche lavoro che magari stava svolgendo in segreto, per mettere da parte soldi o... Insomma, qualsiasi informazione che potesse aiutarli a capirci qualcosa. Manny quindi risponde di sì. Dice loro che effettivamente Rachel gli aveva parlato di un lavoro segreto, ma che non poteva dar loro molte informazioni riguardo. Grazie a questo piccolo lavoretto, dice, avrebbe potuto permettersi le scarpe. Tuttavia la ragazza non aveva voluto fornire nessuna informazione in più e aveva rassicurato Manny dicendogli che non si trattava di nulla di immorale o di illegale, ma quella sera, più il ragazzo va avanti con la conversazione e più Elizabeth si fa prendere dal panico, ovviamente. Nella sua testa iniziano a risuonare mille campanelli d'allarme e si domanda quale poteva essere questo lavoro segreto. Un lavoro che permetterebbe ad una ragazzina di soli 15 anni di potersi permettere delle scarpe da 100 dollari. Poi 100 dollari del 98, che penso siano paragonabili a tipo 200 euro di adesso. Insomma, non sono pochi. Per una ragazzina che lavora un giorno, è strano. Dopo aver chiuso la chiamata con Manny, Elizabeth comincia a chiamare ogni singolo amico di Rachel, a partire dai suoi vecchi amici, suoi vecchi compagni della scuola tradizionale, fino ai nuovi della scuola di danza. Ma ad ogni chiamata la risposta è sempre la stessa. Nessuna notizia di Rachel. Michael ed Elizabeth si ritrovano ad un passo dalla disperazione e decidono di recarsi alla centrale di pulizia più vicina per denunciare la scomparsa di Rachel. Tuttavia, i puliziotti non si riveleranno subito di grande aiuto. Infatti, definiranno la scomparsa di Rachel come una semplice fuga adolescenziale, aggiungendo anche che era ancora troppo presto per denunciarne la scomparsa e consigliando ai coniugi di aspettare il giorno successivo per vedere se la ragazza si sarebbe magari fatta viva durante la notte. Nonostante le suppliche di Michael di iniziare subito con le ricerche, gli agenti rispondono di non poterlo ancora fare, perché non si trattava di un'emergenza, non ancora, e quindi consigliano ai due di tornare a casa e di aspettare, prima di tornare alla centrale per sporgere denuncia. Ovviamente Michael ed Elizabeth sono totalmente devastati, si sentono abbandonati dall'autorità e in loro continua a risuonare il pensiero che sia accaduto qualcosa di brutto a Rachel, perché ripeto, non era proprio da lei non dare nessuna notizia e sparire così nel nulla. Ecco, scusate, off topic, ma magari se parlo un po' più a voce bassa mi fa meno male. Provo ad avvicinarmi un po' al microfono e parlare con la voce un po' più bassa. Comunque il fatto di persone scomparse che non erano solite appunto comportarsi così, quindi non dare informazioni su dove fossero, con chi fossero, eccetera, è una cosa che abbiamo sentito molto spesso. Veramente, l'abbiamo sentito e risentito. Purtroppo però, quando la legge stabilisce che non si può ancora agire, non si può fare nulla. La notte quindi passa lenta e tormentata. I coniugi non riescono a chiudere occhio, ovviamente, e non appena il sole inizia a sorgere, si fiondano in cucina, sperando di trovare magari la loro Rachel lì, ad attenderli. Ma la casa è vuota, e al suo interno e cheggia un silenzio assordante. È in quel momento di triste quiete che lo squillo del telefono rimbomba nella casa come un allarme, e Michael si fionda alla cornetta per rispondere, pregando di sentire ovviamente la voce di sua figlia dall'altra parte. La voce dall'altra parte, però, è Manny, il ragazzo di Rachel. E attenzione perché sta per dare a Michael un'informazione che sarà poi di vitale importanza per le indagini. Manny dice a Michael che Rachel gli aveva detto una cosa il giorno prima al negozio di scarpe, ovvero che la ragazza si sarebbe dovuta incontrare con una vecchia amica per svolgere questo lavoro segreto, e che quindi non ci sarebbe stato niente di cui preoccuparsi. Perché appunto Rachel non era da sola, ma sarebbe stata addirittura accompagnata da un'amica più grande di lei. Michael in quel momento sente una sorta di rassicurazione. Lo dice ad Elizabeth ed entrambi tirano un sospiro di sollievo perché finalmente sapevano che loro figlia comunque non era da sola, ma era con un'amica, un'amica di vecchia data, che probabilmente avevano anche già conosciuto. Il padre di famiglia quindi ringrazia Manny e lo sprona a richiamarlo se gli fosse venuto in mente qualcos'altro, poi riattacca. A quel punto i coniugi cominciano di nuovo a ricontattare ogni singola amica di Rachel, sia vecchia che non, ma la risposta è sempre la stessa. Nessuno ha visto la sedicenne. L'unica informazione che i genitori riescono ad ottenere da questo giro di chiamate è che una delle amiche il giorno prima aveva offerto a Rachel un passaggio a casa dopo le lezioni, così da permettere a Michael di riposarsi e non doverla andare a prendere la stazione di Waddle Park. La ragazza però aveva rifiutato l'invito e aveva detto che si era già messa d'accordo con il padre per venirla a prendere alle 18.15. Tutto questo però non tornava, perché a quel punto Michael non sapeva se le parole della figlia fossero effettivamente vere o se avesse mentito per andare a fare questo lavoro segreto. Elizabeth intanto non si dà pace. Ormai sono passate quasi 24 ore dalla scomparsa di Rachel e non c'è ancora nessun tipo di notizia, nessuna chiamata, nessuna informazione, nessun indizio. È giunta quindi l'ora di tornare alla centrale di polizia e sporgere finalmente denuncia. E così fanno. Nei giorni successivi, i coniugi appendono i volantini con l'avviso di scomparsa in ogni angolo della strada. Cercano di parlare con chiunque avesse avuto contatti con Rachel, ma tutto porta sempre ad un triste e angosciante vicolo cieco. Tutto ciò non aveva senso. Qualcuno doveva averle fatto del male, qualcuno doveva averla rapita, qualcuno la stava tenendo prigioniera. Era l'unica cosa che i due genitori tormentati riuscivano a pensare. Passa così una lunghissima settimana e arriviamo all'8 marzo del 1999, quando finalmente Michael ed Elizabeth ottengono una nuova pista. Una vecchia compagna di danza di Rachel, di nome Ellison, decide di farsi avanti. Ellison non aveva sentito della scomparsa di Rachel fino a quel momento, non aveva la minima idea che la ragazza fosse scomparsa e che tutti la stessero cercando. Ma non appena le arriva la notizia, sente di doversi fare avanti e dire la sua. Così dice di aver visto Rachel il giorno prima della scomparsa e inizia a raccontare tutto ciò che sa. Alle 18.40 del 1 marzo, Ellison si trovava su un treno diretto a Paran, un sobborgo situato a sud-est rispetto a dove viveva Rachel. Era seduta nel vagone, stava guardando fuori dal finestrino e osservava il cielo cambiare colore mentre il buio si faceva sempre più spazio attorno a lei. All'improvviso vide Rachel, seduta a qualche sedile più avanti, in compagnia di un'altra ragazza. Per Ellison era chiaro che si trattava di una sua amica, perché le due chiacchieravano, ridevano, scherzavano ed è per questo che Ellison non si sentiva di avvicinarsi a loro. Preferiva lasciarle la loro giusta privacy per non risultare scortese. Quindi rimase in disparte, guardando mentre Rachel rideva con questa ragazza misteriosa per tutto il viaggio. Quando il treno arrivò alla stazione di Paran, Ellison si alzò in piedi e notò che anche Rachel e la ragazza misteriosa si erano alzate in piedi. E proprio in quel momento le due incrociarono gli sguardi. Rachel sorrise calorosamente ad Ellison e la salutò con la mano da lontano. Poi si voltò e scese dal vagone insieme all'altra ragazza. Questa ovviamente è una grandissima boccata d'aria per i poveri Michael ed Elizabeth. Finalmente sanno dove si trovava Rachel a quell'ora, ma soprattutto sanno che non era da sola. Adesso però si crea una nuova ed enigmatica domanda, ovvero chi era la ragazza misteriosa insieme a Rachel. Passano un paio di giorni e si arriva così all'11 marzo del 1999. Ellison viene convocata alla stazione di polizia e le viene chiesto di descrivere, come meglio ricorda, la ragazza che si trovava in compagnia di Rachel quella sera sul treno. Viene chiamato anche un artista con il compito di ricreare il volto di questa sconosciuta, seguendo ovviamente le informazioni date dalla ragazza. Ellison quindi inizia con la descrizione. La ragazza misteriosa era più grande di Rachel, più alta, e con una conformazione fisica decisamente più grossa rispetto al corpo minuto della sedicenne. Intanto la polizia inizia anche ad analizzare tutte le telefonate effettuate dalla casa dei barbari il giorno precedente alla scomparsa, pensando che molto probabilmente Rachel si era messa in contatto con questa ragazza, magari per confermare l'orario in cui si sarebbero viste il giorno seguente, o per parlare di questo misterioso lavoro segreto, insomma. Si dovevano essere sentite. Tra le chiamate effettuate quel giorno infatti, ce n'è una che è saltata subito agli occhi dei poliziotti, e veniva da un numero privato. La chiamata era stata effettuata intorno alle 17.30, ed era durata circa 15 minuti. Ma poco dopo la fine di quella chiamata, il numero privato ha chiamato nuovamente, e questa volta la conversazione è durata circa 30 minuti. Gli investigatori impiegano più di 24 ore per risalire alla persona che aveva chiamato con il numero privato. E alla fine ci riescono. La persona che aveva contattato Rachel con il numero privato si chiamava Caroline Robertson, una giovane ragazza di 20 anni, che somigliava molto alla ragazza dell'identikit. L'identikit fatto con le descrizioni di Allison. Guarda caso, Caroline viveva proprio vicino alla stazione di Paran, ovvero la stazione in cui è stata avvistata Rachel l'ultima volta, insieme presumibilmente a lei. Caroline tuttavia non è una sconosciuta e non è una ragazza misteriosa. Si tratta della vecchia babysitter di Rachel, e proprio per questo motivo è molto legata alla famiglia Barber. Finalmente gli investigatori iniziano a unire i puntini, e capiscono che la ragazza misteriosa sul treno non era altro che la vecchia amica di cui parlava Rachel a Manny, il suo fidanzato. Michael ed Elizabeth finalmente si rilassano un po' perché hanno scoperto che Rachel non poteva essere lontana. I coniugi si fidavano tantissimo di Caroline. Alla fine era stata la babysitter delle loro figlie per anni. Quindi rimangono decisamente sollevati dallo scoprire che la ragazza fosse con lei. Si decide quindi di porre fine a questa storia una volta per tutte. La polizia e i genitori vogliono vederci chiaro, così. Alcuni agenti si recano all'appartamento di Caroline, che ormai rappresentava l'unico luogo in cui poter ritrovare Rachel. Non appena gli agenti arrivano lì, però capiscono in fretta che le cose non erano affatto come si erano immaginati. La polizia fa irruzione nel palazzo e arriva davanti alla porta dell'appartamento di Caroline, bussa varie volte e intima Caroline e Rachel di uscire da lì. Ma la risposta è un silenzio totale. A quel punto i poliziotti cercano di aprire la porta, ma è chiusa a chiave. Viene quindi subito contattato l'amministratore del condominio, che arriva prontamente sul posto con un mazzo di chiavi di riserva. Ma quando gli agenti provano di nuovo ad aprire la porta, non ci riescono. Era stata chiusa dall'interno con una serratura speciale. Intanto un'altra pattuglia stava girando attorno al perimetro dell'edificio cercando un'altra via di accesso. E mentre camminavano, uno di loro alza lo sguardo. E nota che una delle finestre del secondo piano, riconducibile all'appartamento di Caroline, era aperta. E lo era abbastanza da permettere ad una persona di riuscire ad entrarci. Vengono così chiamati i vigili del fuoco, che arrivano subito, mettono una scala contro il lato dell'edificio e un pompiere inizia piano piano ad arrampicarsi. Quando arriva in alto, quello che vede è una normalissima camera da letto. Tutto sembra normale, almeno fino a quando non nota che c'è un corpo steso lì a terra, a faccia in giù, ai piedi del letto. La persona stesa a terra non è altro che Caroline Robertson. Gli agenti chiedono rinforzi e così decine di ufficiali irrompono nell'appartamento. Un agente si avvicina subito alla ragazza e appoggia due dita sul suo collo, per poi constatare subito dopo che era ancora viva. A quel punto vengono chiamati i soccorsi e dopo pochi minuti arriva un'ambulanza, che porta d'urgenza che Caroline all'ospedale. Ora gli agenti però devono trovare Rachel, perché di lei non c'era ancora nessuna traccia, non si trovava nell'appartamento. Infatti l'appartamento viene perquisito da cima a fondo. C'è un disordine generale, decine di scatole accatastate in ogni angolo. La scena infatti potrebbe ricordare un tentato trasferimento improvviso, come se da un momento all'altro Caroline avesse deciso di trasferirsi in fretta e furia, lasciando letteralmente un casino nell'appartamento perché appunto non si era ancora trasferita. Va messo tutto in degli scatoloni e li va lasciati lì, in vista di un trasferimento. Sembrava. Gli agenti raccolgono gli oggetti che pensano potrebbero tornare utili, tra cui alcuni vestiti che sembravano stranamente della stessa taglia di Rachel, poi dei guanti di gomma e dei diari con delle scritte ambigue. Alcuni agenti si dirigono all'ospedale dove era stata ricoverata Caroline, che nonostante fosse ancora molto stordita e disorientata, aveva ripreso conoscenza. Il personale medico permette a due investigatori di entrare nella stanza, perché arrivati a questo punto il tempo stringeva e ogni secondo poteva essere potenzialmente fatale per la povera Rachel. Caroline però non sembra comprendere bene la situazione, un po' stordita e anzi molto stordita, non capiva bene dove si trovava, soprattutto perché era lì. I poliziotti quindi si siedono accanto a lei e, con voce molto calma, le chiedono se sapesse per caso dove si trovava Rachel. Lei inizialmente esita, rimane un po' sul vago per qualche minuto, ma dopo dice di sì. Dice di sapere dov'era e, da questo momento, la storia inizia ad avere un senso, anche se la polizia di Melbourne si troverà davanti ad uno dei casi più emblematici che avesse mai visto. La storia viene ricostruita sia grazie alle testimonianze di Caroline in ospedale, che anche grazie alle telefonate che aveva effettuato con Rachel il giorno precedente alla sua scomparsa. Caroline, in quelle chiamate, durate in totale 45 minuti, aveva detto a Rachel che stava lavorando su uno studio di psicologia e aveva bisogno di volontari che potessero partecipare. Tuttavia, lo studio in questione era strettamente confidenziale e quindi se Rachel avesse voluto farne parte avrebbe dovuto ottenere il segreto. In quel momento Rachel in testa aveva un unico pensiero ed erano quelle bellissime scarpe blu di cui si era perdutamente innamorata e che desiderava con tutto il suo cuore. Quindi accetta di partecipare a questo studio, per il quale ovviamente avrebbe ricevuto dei soldi e non fa tante domande. Caroline le dà quindi appuntamento dopo la fine delle lezioni alla stazione di Richmond. Una volta insieme avrebbero preso il treno per Paran per dirigersi all'appartamento della ventenne e lì avrebbero potuto condurre finalmente lo studio di psicologia in totale tranquillità. Una volta terminato lo studio, Caroline avrebbe dato a Rachel i tanto promessi 100 dollari, quindi affare fatto. Rachel non aveva motivo per rifiutare, era una proposta troppo allettante. Il giorno dopo quindi, il primo marzo, le due si incontrano alla stazione di Richmond per prendere insieme il treno verso Paran, il treno in cui l'aveva vista Ellison. Arrivate alla stazione, le due scendono dal treno e si dirigono alla pizzeria più vicina per prendere due pizze per cena. Una volta arrivate all'appartamento, si siedono comode e cominciano a mangiare la pizza e sorseggiare una birra. Le due scherzano, chiacchierano e si raccontano le ultime novità. Tutto assolutamente normale e tranquillo. Finita la cena, Caroline dice a Rachel che era ora di iniziare il tanto atteso studio di psicologia e le dice quindi di rilassarsi completamente. Inizia con una meditazione guidata. Caroline le dice di chiudere gli occhi, di svuotare la mente e di ispirare ed espirare profondamente. E così fa Rachel. Si siede a gambe incrociate e ancora ad occhi chiusi comincia ad ispirare e espirare. Caroline intanto si alza e comincia a girare per la stanza osservando i movimenti di Rachel per vedere se stasse facendo bene l'esercizio e ricordandole di tanto in tanto di svuotare completamente la sua mente. Poi i respiri di Rachel si fanno sempre meno pesanti e la sua postura diventa sempre più sciolta. Caroline quindi si piazza davanti a lei e comincia a fissarla in maniera quasi inquietante. Aspetta qualche secondo e quando vede Rachel ondeggiare un po' con il corpo come se le mancasse l'equilibrio, capisce che l'esperimento ha funzionato. Quello che Rachel non sa è che Caroline le aveva messo dei sonniferi nella birra e stava solo aspettando che facessero effetto. Quando ormai Rachel si ritrova totalmente rilassata, praticamente addormentata Caroline tira fuori la corda di un telefono fisso e lo avvolge all'improvviso intorno al collo della ragazza. Lo tira più forte che può e Rachel che è ancora in stato di trance apre gli occhi di scatto e istintivamente guarda in alto. L'unica cosa che vede è il viso di Caroline sfocato che la guarda negli occhi mentre stringe ancora più forte il cavo intorno al suo collo. La ragazza mette le mani sulla corda nel disperato tentativo di far mollare la presa a Caroline ma quest'ultima è più grande, più grossa, più forte di lei. Per Caroline non è affatto difficile mantenere il controllo su Rachel. Intanto la povera sedicenne comincia a dimenarsi con le sue ultime forze rimaste cercando disperatamente di liberarsi dalla presa della sua guzzina ma neanche troppo lentamente. La sua vista si fa sempre più effuscata e quando le ultime forze abbandonano il suo corpo Rachel si accascia a terra senza vita. Caroline mantiene comunque ancora il cavo stretto intorno al collo per qualche minuto per assicurarsi che morisse e poi finalmente allenta la presa prende il corpo senza vita di Rachel da sotto le spalle e la trascina fino all'armadio di camera sua poi chiude la porta. Il giorno dopo Caroline riapre l'armadio prende il gracile corpo di Rachel e lo infila in un enorme borsone militare che aveva acquistato giorni prima solo ed esclusivamente per questo motivo. Chiama poi un taxi e con totale disinvoltura carica il sacco con il corpo di Rachel nel bagagliaglio della macchina e chiede al tassista di dirigersi a Kilmore una città che si trova a circa 60 km a nord di Melbourne. Non so come abbia fatto il tassista a non rendersi conto del fatto che c'era qualcosa di strano in quella borsa forse se ne ha reso conto e l'ha pensato ma in queste situazioni si tende a scacciare il pensiero negativo o il dubbio spaventoso e pensare che in realtà tutto è assolutamente normale o quantomeno migliore di come ci si immagina. Comunque, il motivo per cui Caroline chiede l'altassista di andare a Kilmore è che suo padre aveva una casa per le vacanze proprio in quella zona. Una casa in cui la ragazza avrebbe potuto seppellire il corpo di Rachel scavando una fossa. Nessuno avrebbe fatto domande. Il motivo invece per cui gli agenti hanno trovato Caroline in priva di sensi nel suo appartamento è perché la ragazza aveva avuto una crisi epilettica che era stata causata dal forte stato di stress dopo aver visto le pattuglie di polizia arrivare vicino alla sua abitazione. Al suo risveglio tuttavia Caroline non ha ammesso subito il crimine e anzi ha descritto la morte di Rachel come accidentale. Nelle settimane successive però con l'avanzare delle indagini con l'avanzare insomma di tanti indizi, tante cose che si sono trovate gli agenti hanno iniziato a mettere insieme tutti i pezzi e hanno capito che la morte di Rachel era stata tutto tranne che accidentale anzi era stata addirittura premeditata sia per quella cosa del borsone ma anche per altre cose. Se vi ricordate infatti durante la perquisizione dell'appartamento di Caroline gli agenti avevano recuperato vari oggetti che avrebbero potuto rivelarsi utili tra cui anche i diari della ragazza. Ecco grazie a questi diari gli investigatori riescono a ricollegare gli ultimi frammenti di questa tragica storia. Dalle scritte al loro interno si può capire che la ragazza odiava profondamente se stessa, detestava la sua immagine fisica, si trovava brutta e grassa e aveva una vera e propria ossessione per Rachel Barber la ragazzina a cui aveva fatto da babysitter per anni. Caroline la disprezzava tantissimo perché Rachel incarnava perfettamente quello che lei avrebbe voluto essere. Una ragazza bellissima, minuta, talentuosa, graziosa, intelligente. Tutto quello che Caroline sentiva di non essere. In lei si era insinuata l'ammorbosa idea di smettere di essere se stessa e di diventare come Rachel. Anzi, di diventare Rachel. Aveva pensato che l'unico modo per raggiungere questo obiettivo fosse di rubare effettivamente l'identità di Rachel quindi ucciderla, prendere i suoi documenti e cominciare una nuova vita con il suo nome altrove. Caroline ha deciso di tenderle una trappola colpendo il suo punto debole ovvero quelle scarpe tanto desiderate. La ragazza sapeva bene che Rachel desiderava disperatamente quelle scarpe così costose e quindi si era inventata la storia del lavoro segreto per attirarla nel suo appartamento promettendole esattamente il denaro che altrimenti non avrebbe avuto per chissà quanto tempo ancora. sapeva anche che Rachel riponeva la sua più totale fiducia in lei in fondo era stata la sua babysitter per anni la ragazza che si prendeva cura di lei in assenza dei suoi genitori quindi perché non fidarsi? Perché non avrebbe dovuto crederle? A seguito dell'omicidio Caroline avrebbe quindi proseguito con il suo piano malato avrebbe cambiato aspetto fisico provando in tutti i modi a perdere peso e poi avrebbe cambiato legalmente il suo nome e il suo cognome in Rachel Barber. Il 24 marzo 1999 il corpo di Rachel viene finalmente ritrovato e estratto dal terreno e le viene finalmente concessa una degna sepoltura al funerale ci sono familiari, amici, compagni di scuola vecchi e nuovi, tutti stretti intorno a lei alla cerimonia partecipano più di 800 persone che portano lettere, poesie e che verranno poi sepolte con Rachel così come quelle scarpe platform blu che lei desiderava tantissimo. Nel novembre del 2000 Caroline Robertson si dichiara colpevole dell'omicidio di Rachel Barber e viene condannata a 20 anni di carcere con la possibilità di richiedere la libertà condizionale una condanna secondo me brevissima il prezzo da pagare per aver tolto una vita umana dovrebbe essere molto più alto e invece Caroline verrà rilasciata nel 2015 dopo soli 15 anni di reclusione in realtà aveva ottenuto la libertà condizionale il 10 agosto del 2013 ma il suo rilascio è stato ritardato a seguito di una protesta pubblica da parte dei genitori di Rachel per tenerla dietro le sbarre il motivo della pena così ridotta da quanto ho capito ma non è chiarissimo dovrebbe essere un disturbo di personalità che è stato poi tenuto sotto controllo durante i suoi anni dietro le sbarre e in quegli anni nonostante tutto Caroline pensate ha studiato ha cambiato il suo aspetto è dimagrita ha i capelli lisci una carnagione più chiara vi ricorda qualcuno? l'adult parole board ha accolto la sua richiesta di libertà condizionale nell'ottobre del 2014 stabilendo le condizioni fondamentali della sua libertà non deve infrangere alcun tipo di legge deve notificare il suo ufficiale di sorveglianza qualsiasi cambiamento di indirizzo due giorni prima di fare qualsiasi mossa e deve giustificare ogni suo spostamento comunque negli anni successivi alla morte di Rachel sua mamma Elizabeth ha scritto un libro intitolato The Perfect Victim la vittima perfetta in cui racconta la tragica storia della sua amata figlia il libro si sarebbe poi adattato in un film chiamato In Her Skin nella sua pelle un film australiano che ha realizzato in realtà un discreto successo qualcuno di voi l'ha visto perché vorrei vederlo quindi se avete qualche considerazione da fare fate pure così mi faccio un'idea e si conclude così la storia di Rachel Barber è sempre un'enorme tristezza sentire casi come questo casi che riguardano giovani innocenti uccisi da persone di cui si fidavano come sempre si tratta di una tragedia che si poteva evitare benissimo Rachel sarebbe potuta diventare una ballerina professionista e Caroline se si fosse fatta aiutare sarebbe stata in grado di mettere da parte l'odio e l'invidia che provava nei confronti della sua vittima e chissà forse avrebbe iniziato ad amarsi anche per questo dobbiamo imparare ad amare noi stessi non è per niente facile specialmente nella società odierna in cui ogni giorno veniamo bombardati messi di fronte a fisici perfetti vite perfette sempre in vacanza insomma ci viene costantemente mostrata una perfezione impossibile da raggiungere ma dobbiamo capire che ognuno di noi è unico nel suo genere quello che vediamo e che pensiamo sia perfetto non è vero e nasconde sempre una realtà molto diversa da quello che immaginiamo nei social e in tv è molto facile fingere far finta che sia tutto assolutamente bellissimo ma non è mai così fiedatevi la perfezione non esiste davvero e non dobbiamo quindi cercare di raggiungerla dobbiamo invece cercare ciò che ci rende unici capire cos'è e valorizzarlo e poi cercare sempre di essere la versione migliore di noi stessi condividendo positività, gentilezza solo così possiamo star bene e far star bene il prossimo mi raccomando amici amatevi e diffondete amore perché l'odio come dico sempre non è mai la risposta detto questo se vi è piaciuto passare del tempo con me vi invito a mettere un mi piace a questo video o un non mi piace ovviamente se non vi è piaciuto in ogni caso ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto vi parlerò di due gemelle molto inquietanti di cui mi avete chiesto voi di parlare spero quindi che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi non dimenticate di iscrivervi al canale qui trovate il video che youtube pensa vi piacerà e ricordate youtube non si sbaglia mai e qui invece trovate la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao